Il matrimonio può anche essere un business. Dovresti cercare l'amore in qualcuno che già possiede queste qualità. Mi faccia sposare un membro Black. Voglio vendicarmi di una persona. Cosa posso fare? Punti tutto sull'amore. Dedichi tutta se stessa a quello scopo e alla sua avidità. Così è lui, l'uomo che desideravi così intensamente. Tu sei un demonio. Dove sarebbe il problema? Dovresti cercare l'amore. Grazie a tutti.